Mbappe è la reazione dopo il rigore sbagliato dalla rissata che fa infuriare i tifosi inglesi. È il minuto 84 di Inghilterra-Francia, ultimo e sentitissimo quarto di finale dei mondiali in Qatar. Allo stadio al bait di Alcor, i transalpini hanno appena ritrovato il vantaggio con l'incornata di Oliver Giroud al 78. Subito dopo, però, una grossa ingenuità di Theo Hernandez sul neo-entrato Mason Mount. Provoca un nuovo penalty a favore degli inglesi dopo lo sgambetto di Aurelian Chowamani su Bukayo Saka e trasformato da Harry Kane al 54. Inghilterra-Francia, la grande beffa per la nazionale di Sotegat e dal dischetto si presenta ancora una volta il capitano della nazionale d'Oltre Manicama. Questa volta, l'esito è nefasto, destro altissimo e risultato che resta su 2 a 1 per Ibleus. Punteggio che permarrà fino al triplice fischio, arrivato dopo quasi 11 minuti di recupero. Inghilterra-Francia, la risata sguaiata di Mbappé all'errore dal dischetto di Kane per i tifosi inglesi. Una beffa atroce, che acquisce quando le telecamere vanno a indugiare su Kylian Mbappé. Dai successivi fermi immagine si nota infatti che l'attaccante del PSG, subito dopo l'erroraccio di Kane. Scoppia in una fragorosa risata, anche sguaiata, che fa letteralmente infuriare la gente a nord dello stretto della Manica. Che non hanno mancato di apostrofarlo sui social. virgola.